Tragedia sulla A31 Valdastico, tra Longare e dal Bettone. Un furgone esce di strada e si schianta sui New Jersey di un'area di servizio in costruzione. L'impatto è violentissimo. L'autista, un uomo di 66 anni inattivo nel comune di Valdagno, è stato sbalzato fuori dal veicolo, finendo a terra e morendo sul colpo per i gravi traumi riportati. Sembra che in quel momento non indossasse le cinture di sicurezza. Ferito il passeggero, un 76enne soccorso dai sanitari del 118 è trasportato al pronto soccorso dell'ospedale San Bortolo di Vicenza. Secondo quanto al momento appurato, il 66enne avrebbe perso il controllo del mezzo forse per un malore o distrazione a dare l'allarme a un altro automobilista che ha visto il furgone sobalzare. Per i rilievi dell'incidente è intervenuta la polstrada di Badia Polesine.